Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa del 4 febbraio. Vi ricordo che questa sera ci sarà come sempre, come tutti i lunedì, Quarta Repubblica. Questa sera ci sarà Matteo Salvini, ospite all'inizio della trasmissione. Il punto fondamentale dei giornali e non solo della nostra trasmissione è proprio quanto durerà questo governo e quanto Lega e Movimento 5 Stelle stiano bisticciando tra di loro. Ieri è stata la partita dei terzi, cioè di quelli che cercano di minare questo governo e fanno i fenomeni. Sono il presidente della Camera FICO e, buongiorno a Maria Assunta che si è collegata ora, non si capisce bene con quale ruolo di Battista che viene qua in Italia, fa qualche incursione e poi se ne ritorna in India e vuole andare nei programmi che fanno tanti ascolti per poter dire la sua. che non capisco se rappresenta il movimento, se stesso, quale anima del movimento. Comunque è evidente che qualcuno rappresenti. Oggi in un retroscena si dice che in realtà Di Maio sia finito quindi in un cul de sac tra FICO e di Battista che sembra che facendo non il governo e quindi meno i fenomeni, scontrandosi meno con la realtà, possano restare a quel vecchio Movimento 5 Stelle che era tutto di lotta e poco di governo. Le due questioni su cui si scontrano sono la TAV, per cui non è mettibile in discussione il buco, come lo chiamano quelli del Movimento 5 Stelle, non si deve fare, e l'altro è il processo. FICO ieri da Fazio, alla trasmissione di Fazio, ha detto che se fossi io mi farei processare. Sul buco il messaggero oggi, forse quello che va più avanti, buongiorno Giorgio e Françoise in collegamento come sempre di prima mattina, il messaggero oggi ci racconta una cosa molto interessante sul fatto che, come voi tutte sapete, questa commissione per l'analisi costi-benefici su sei componenti ne ha cinque di componenti che sono dichiaratamente contro la TAV. Questi cinque, capitanati da questo Ponti, che ha detto io sono un contafagioli, questo dice lui, e non vado nei cantieri che mi interessano poco, per me è importante contare i fagioli, in un'intervista che ho fatto ieri, il contafagioli-Ponti oggi ci spiega nella sua relazione, così come anticipata dal messaggero, e scusatemi, il buco non si fa perché costerebbe, in questa analisi costi-benefici, anche molti soldi, e sapete perché? Per il minor consumo di benzina che farebbero su quella tratta autostradale, i camion che verrebbero persi, i camion verrebbero portati sui treni, quindi c'è meno consumo di benzina e il meno consumo di benzina comporta meno entrate radiali, quelle meno entrate, minori entrate radiali, sono per Ponti una delle considerazioni dell'analisi costi-benefici. Secondo voi questa può essere la logica? Con questa logica siamo alla follia. Seconda logica altrettanto folle, e oggi quella ferrovia vede una riduzione del traffico del 70%, lo dice anche oggi Valente, sottosegretario della Presidenza del Consiglio, che ribadisce il suo no totale al buco, anzi dice per rimetterli a posto basta 10 milioni e li copriamo in buchi. Vabbè, ma il punto fondamentale è che la riduzione del 70% del traffico deriva dal fatto, magari non ci pensano Ponte, i geni del notav, dal fatto che fa talmente schifo quella ferrovia che ovviamente tutto fanno, tranne che trasportare con quella ferrovia le merci. Oggi polito in un bellissimo articolo sul Corriere della Sera, sui buchi che partono al 1470 e arrivano al 1900, che è unito l'Italia, la Francia e poi alla Germania, insomma le infrastrutture fanno i traffici, così come si è plasticamente visto tra l'altro con l'autostrada del sole. All'epoca un italiano su 10 aveva le auto e nessuno avrebbe pensato il traffico che invece la stessa infrastruttura ha creato. Ma continuiamo in questa specie di madurismo all'italiana, per cui facciamoci del male, basta leggere oggi Valente, oggi sull'intervistato da qualche parte che ci spiega che con 10 milioni i buchi che abbiamo fatto li copriamo. Ma fino a ieri non c'era la mancanza di buchi, ma non mi è chiaro, beh, si devono un po' mettersi d'accordo con loro stessi. Guaidò, il presidente non autodichiarato, vedo Giordano che si collega ora con la zuppa di poro, bellissima, vi consiglio di leggerla, la sua lettera che il giornale ha posto come fondo del suo giornale, in cui parla un imprenditore giovane che valga la pena rimanere in questo paese, ma che vede molti rischi che molti suoi colleghi se ne vadano, come tanti suoi amici lo hanno fatto, e tutte le modifizioni le leggete oggi sul giornale. Dicevamo, intervista Guaidò del giornale del Corriere della Sera, in cui dice ma il Roma che sta facendo? E soprattutto gli italiani del Venezuela gli stanno implorando di mollare questo Maduro. La posizione italiana è isolata in Europa, e questo chi se ne frega perché si potrebbe anche essere isolato per un buon motivo, ma sulla difesa di un dittatore come Maduro mi sembra una cosa incredibile, una cosa allucinante. Oggi su tutti i giornali si parla. Pensate un po' voi, l'inflazione in quel paese ha fatto sì che 10 mila dollari all'inizio dell'anno siano diventati 56 centesimi alla fine dell'anno. Questo è il deposito malandato dei soldi venezuelani. Non hanno prodotti di prima necessità, mancano di antibiotici, il 90% è sotto le condizioni di povertà, il 65% molto al di sotto delle condizioni di povertà, in uno dei paesi dotati di maggiori risorse economiche del mondo e che tra l'altro era meravigliosa, come molti dei nostri genitori si ricordano. Venezuela di Caracas, della grande vita che poteva dare distrutta da questi quattro comunisti, tanto osannati non dal Movimento 5 Stelle. State calmi, state attenti, il vero problema non nasce dal Movimento 5 Stelle, ma da una certa sinistra italiana, sciavinista, europea, spagnola. Podemos fu pagato, il mitico Podemos, quello col coso, da i soldi di Maduro. Insomma, non facciamo i fenomeni, i grillini ci sono arrivati dopo. E' quella tradizione della sinistra di merda che purtroppo ci contraddistingue. Oggi Guaidò lo trovate su tutti i giornali, peraltro Guaidò che non mi sembra un pericoloso razionario, ma il suo partito è un partito socialdemocratico. Sul giornale c'è la grande gaff di Toninnelli, sulla 22 che ieri si è bloccata perché la gente non aveva le catene a bordo e per altre disfunzioni e dice bisogna nazionalizzarla. Beh, ovviamente la ricetta è alla Maduro, ma anche qui cerchiamo di essere seri, lo prendiamo in giro Toninnelli e facciamo bene perché non sa quello di cui parla il 99% delle volte, perché tutti ricordano col ditino, guarda che l'85% di quelle autostrade sono già pubbliche, cioè della regione, del Trentino Alto Adige, delle province, dei comuni autonomi e di tutte queste minchiate all'italiana. Quindi l'85% è pubblica, di fatto il 15% è privata. Ma voi dite, ma insomma questa è una cosa ridicola, che questo fa questa gaff incredibile. Sì, è ridicola, è ridicola anche la posizione politica, cioè sperando che nazionalizzare un'autostrada possa migliorare nella condizione. Il contrario, vediamo come sono gestite male anche le tratte autostradali, che sono completamente pubbliche. Ma il punto è un altro ed è politico ed è straordinario, lo leggete oggi sui giornali, soprattutto sul Corriere, lo leggete nelle ultime righe. Chi è che ha preteso e chi è che voleva vendere il restante 15% privato allo Stato? Il ministro del Rio, cioè il tema della nazionalizzazione, o meglio della statalizzazione completa dell'A22, non è un'invenzione di Toninelli, è un'invenzione del precedente governo. Il precedente governo voleva cacciare a calci nel sedere gli imprenditori privati dall'A22. Quindi, voglio dire, Toninelli avrà fatto pure una gaff, ma la gaff è nella perfetta linea della sinistra che voleva nazionalizzare al 100% quelle autostrade e voleva farle gestire dalla regione. Io non entro nel merito bene o male, ho sbagliato, ma insomma mi viene da ridere, come fa, dice qualcuno, e soprattutto la Lega a convivere con questi buffoni. Bisognerebbe chiederglielo a loro. Di Polito vi ho parlato oggi sulla ripresa economica e sul fatto che i governi possono incidere sulle riprese economiche, uno di quei pezzi, diciamo, astrusi del ministro Tremonti. La cosa che mi diverte non è tanto il pezzo, le citazioni latine, sempre molto colte, di Giulio Tremonti, ma il fatto che Giulio Tremonti un tempo godeva delle prime pagine del Corriere della Sera, quando alzavo un sopracciglio tutti a discutere di lui, è finito a pagina 8 in un taglio basso del giornale e sopra ci sono i 250 decreti che il governo Conte deve attuare. Cioè, come si può dire, è una di quelle cose che avendo fatto io e facendo io il vice direttore di un giornale, quando un direttore di un giornale dice, ma dove cacchio lo piazziamo sto Tremonti? Forse abbiamo un taglietto di 40 righe a pagina 8, tanto non lo vede nessuno. Questo è, come possiamo dire, il peso politico che hanno i vecchi, anche più colti, parlamentari della vecchia generazione. Di Battista oggi, per non farsi perdere nulla nella campagna elettorale in Abruzzo, va in campagna elettorale che dice di riduciare gli stipendi a Fazio e a Vespa. Sicuramente grandi applausi populistici per lui, saranno tutti contenti. Il titolo oggi della verità è Scioperi, da qua all'8 marzo, un bel pezzo di Giorgio Gandola che ci dice che qua ci saranno un sacco di scioperi, con Fesercenti, ci sarà lo sciopero, non so in che cosa scioperi, Alitalia, Trenitalia, Cobas, vabbè, e per che cosa si sciopera? Contro Salvini. E' fantastico. Oggi Galli della Loggia un po' fa lo stesso ragionamento, perché dice l'irresponsabilità della sinistra, l'irresponsabilità della classe dirigente, ma io quando Galli della Loggia mi scrive 90 riga che mi sono fatto due palle così sul suoi ragionamenti sul Corriere della Sera, oggi affiancato al gemello diverso, ma da me è molto più apprezzato pane bianco, quando fa tutta sta pippa dicendo Ah, l'irresponsabilità, dove eravate? Lui che criticò il partito di plastica e creò le premesse di questa roba qua, perché è chiaro che questi sono figli dell'antiberlusconismo, pulito pulito. Beh, Galli della Loggia che critica e che scrive e che parla dell'irresponsabilità, non è lo stesso Galli della Loggia che ha votato a Roma Virginia Raggi? Lo stesso Galli della Loggia che ci parla delle scie chimiche, che ci parla dell'incapacità di conoscere la scienza dei vaccini e dell'imbecillità di questi, del Movimento 5 Stelle? Non è lo stesso Galli della Loggia che ha detto di votare Virginia Raggi che voleva fare con le pecore pulire i giardinetti di Roma e che voleva fare la funivia a Roma? È lo stesso Galli della Loggia, no, no, tanto per capire se l'irresponsabilità è semplicemente solo degli altri. È evidente che poi quando ti vai a guardare le primarie, Calenda che arriva, la mamma, le fazioni, eccetera, il mio amico Paride Vitale che nessuno di voi conosce ma che io seguo su Facebook quando scrive ma se questa è la sinistra che vuole combattere il Movimento 5 Stelle e la Lega siamo opposto, vale anche un po' per il centrodestra, devo dire, a questo punto. Cioè, forti non tanto per merito loro ma per demerito delle opposizioni che mi sembra che non ci siano. Meletti oggi su Fatto Quotidiano, il lunedì, sapete che i giornali sono un po' precotti, fa un'inchiesta su cui bisognerebbe mettere davvero le mani, cioè sulla vera casta, non quella che abbiamo raccontato della politica, cioè quella dei consiglieri di Stato che si spartiscono tra di loro, incarichi, aiuti, ovviamente sempre con questo sapore giustizialista che dà il Fatto e Meletti poi che ogni tanto perde la testa, ma devo dire la verità che insomma quella roba lì dei consiglieri di Stato è una roba molto interessante. Molto interessante oggi sul Fatto è il pezzo di Claudio Cerasa su Netflix, finalmente non parlano di giudici che dovrebbero condannare Salvini, perché parla di questo algoritmo di Netflix e dice esattamente quello che succederà nel futuro, cioè che ci produrranno film, ci produrranno serie televisive che sono in una specie di bolla di politicamente corretto, cioè ci producono quello che vogliamo. Insomma, leggetelo, il pezzo di Cerasa oggi colto interessante e su un tema davvero importante, cioè la bolla passa dai social network addirittura alle serie televisive che loro scrivono non più con le sceneggiature di un tempo, qua mettiamo questo e qua mettiamo quest'altro, qua come reagirebbe il pubblico di cui ho sottuto dati, consumi e percezioni? Insomma, i film fatti sui big data e sugli algoritmi sono la nuova frontiera anche preoccupante di quello che succederà nel futuro. Nel frattempo pensiamo al passato, cioè questi cazzoni dei partigiani dell'AMPI, non so neanche chi siano, dei cazzoni, dei delinquenti, delinquenti, io li consiglio delinquenti perché poter fare delle manifestazioni in cui si negano le foibe che già per l'altro sono negate da tutti quanti, non sono ricordate da nessuno, 10 febbraio, vedrete sul mio sito, ci sarà il giorno del ricordo, lo ricorderemo, ma la cosa incredibile è che questi qua ancora esistono, hanno dignità politica e magari ci rompono pure le palle su Salvini, su Di Maio, su quello che vuoi e poi a Parma cosa fanno? Grande convegno che sostanzialmente nega le foibe. Io sono ovviamente impressionato dal negazionismo nei confronti dei campi di Auschwitz, ma da italiano e da anticomunista viscerale devo dire che lo sono altrettanto, se non di più, parte di questi delinquenti intellettuali che negano l'esistenza delle foibe, dove furono uccisi italiani inermi, inermi, va bene? Inermi! E facciamo finta di nulla. Direi che per oggi è tutto, beh, insomma, io però non è che vi ho detto tutto quanto, perché questa sera, come sapete, c'è Quarta Repubblica, in prima serata Rete 4, non mancate, Salvini e i furti in Villa, e ovviamente anche la questione Maduro, perché sui furti in Villa, lì mi è rimasta un po' qua, si diceva che era tutta una percezione, Guardate nei servizi di questa sera quello che succede, i partigiani di Lappi non esistono, sono tutti i morti, in effetti forse avrebbero un'età, oddio, Lampi, lasciamo perdere, ancora esistono, negano le foibe, tagliamo i tacchi dei politici, boh, Marco De Medici si è appena collegato, ma mi sa che invece dovremo finirla qui. Nicolaporro.it per tutte le informazioni della giornata, uno straordinario gnocchi questa sera, vedrete sulla Fallaci, ricorda il suo rapporto con la grande scrittrice, e ora Antonio Martino con il Legaf dell'Italia, ex ministro degli esteri, ex ministro della difesa, grande economista, tra poco, anzi subito, su nicolaporro.it, ciao!